Vagone del trenino turistico si ribalta, paura tra i turisti, ieri sera Eraclea, a 14 le persone rimaste ferite, tra le quali anche tre trevigiani, alla guida un 61enne di Spresiano, aperta un'inchiesta. Sono 9 su 10 i trevigiani preoccupati per l'inflazione e il caro degli alimentari, ma i consumi tengono come le spese per le vacanze l'indagine di Confcommercio. Ma un'estate caldissima per il carrello della spesa, frutte e ortaggi di stagione sono un miraggio per tanti trevigiani, così non si può andare avanti, dicono al supermercato. Quasi 7 mila euro di pedaggi non pagati, accodandosi al casello i possessori di telepass a due donne di fregona assolte dall'accusa di insolvenza fraudolenta. A Mogliano Veneto, dopo lo sfratto da parte dell'Ater da marzo scorso, due fratelli cinquantenni vivono in tenda dietro al supermercato. L'amministrazione conosciamo il caso, stiamo cercando di aiutarli. Il Attar del Veneto obbliga le scuole ad avere insegnanti di sostegno che sappiano comunicare anche con la lingua dei segni. La mamma di Lisa, ragazzina sorda, vince dopo dieci anni di battaglia legale. Tragedia sfiorata oggi pomeriggio sulla Gordina Colle Santa Lucia. Enorme masso si stacca dalla parete e piomba sulla strada. Per fortuna nessuno è stato colpito. Traffico a senso alternato. Presentata oggi la domanda ufficiale per la candidatura di Treviso a Capitale Italiana della Cultura 2026, il sindaco Conte sarà un progetto inclusivo che coinvolgerà tutto il territorio della marca trevigiana. Ben trovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna, tra i tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima, però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna alle 21.15 puntuale questa sera. Caro Carrello, fareste uno sciopero della spesa? Il tema è quello dell'inflazione galloppante, soprattutto al supermercato. C'è chi invoca uno sciopero della spesa? Quindi vi chiediamo, voi lo fareste? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691. Se no, il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata, come sempre, è gratuita. L'esito questa sera a Ring con Avarino. Dicevamo la cronaca in primo piano, con la grande paura vissuta ieri sera a Eraclea Amare, dove un trenino turistico si è ribaltato, si è rovesciato praticamente in pieno centro. 14 le persone ferite, tra queste ci sono tre trevigiani. Ma alla guida del mezzo, la guida di questo trenino, c'era una 61enne di Spresiano. È stata aperta un'inchiesta. Risultato negativo all'alcol test a 61 anni di Spresiano, nel trevigiano, l'autista del trenino turistico che si è rovesciato ad Eraclea Amare lungo la stazione delle Corriere, in Vieli Venzuola 9. Errore umano, ammette oggi con un comunicato SAP, la ditta di autotrasporti che da 12 anni gestisce il trenino della Pineta. Errore in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Donai di Eraclea, con il PM incaricato delle indagini, Antonio Sartori, che ha aperto un fascicolo in procura. Da verificare se l'incidente è accaduto per un'imperizia dell'autista di manutenzione del mezzo, ovvero a causa dell'alta velocità del trenino, che può raggiungere al massimo i 25 km orari, e anche per le eventuali cattive condizioni dell'asfalto, visto che uno dei due vagoni si sarebbe rovesciato proprio dopo la curva attorno all'autostazione, con una delle ruote venuta a contatto con un tombino. Ed è qui che si è rovesciato il trenino, ancora visibili le tracce di sangue dei 14 feriti. Dei 30 passeggeri a bordo, tre feriti trevigiani con turisti di Padova e Milano, tra gli altri italiani contusi, tutti finiti tra i sette in pronto soccorso a San Donà, dei 14 feriti in totale, tra cui un papà e la sua bimba di 9 anni, entrambi tedeschi, insieme ad un altro bimbo di nemmeno un anno, con la sua mamma e il suo papà, anch'essi stranieri e una persona disabile, quest'ultimo con una grossa ferita, insieme ad altri due anziani, che hanno avuto una prognosi di 40 giorni, mentre i restanti hanno riportato ferite e contusioni, fortunatamente di lieve entità. Da parte mia ho prestato subito soccorso, accertandomi non vi fossero feriti gravi, le prime dichiarazioni dell'autista, il trenino ora è stato posto sotto sequestro. Per adesso il servizio è sospeso, anche perché con FAP vediamo se ripristinarlo e effettivamente è quello che andremo a concordare di fare con questo trenino. È un peccato perché è un servizio che piaceva tanto ai turisti, sia ai grandi che ai bambini. Dicevamo della caro spesa, del caro carrello, oggetto del sondaggio di questa sera di Ring, ebbene oggi la Confcommercio di Treviso ha diffuso un report, sono 9 su 10 trevigiani preoccupati da questa escalation dei prezzi, ma ci sono anche delle buone notizie. 9 intervistati su 10 hanno dichiarato di vedere come un problema l'aumento dell'inflazione, che sicuramente lo è per i redditi soprattutto fissi, e quindi chi ha una busta paga e con quella deve fare i conti naturalmente si trova in difficoltà. Questo è il dato di partenza dell'indagine di Confcommercio all'inizio di un'estate che si preannuncia in chiaroscuro. Da un lato un'inflazione che sembra non dare tregua, più asfissiante della calura, dall'altro una certa fiducia tra gli operatori perché nonostante tutto a certe spese non si rinuncia. Abbiamo tutti delle utenze da pagare a casa e quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando, però non c'è dall'indagine la rinuncia alla vacanza. A concedersi qualche giorno di ferie sarà più di un trevigiano su due, oltre la metà spenderà come l'anno scorso, quasi il 30% addirittura di più. 870 euro la spesa media. Certo, dalle villeggiature di un tempo si è passati alle micro vacanze, pochi giorni più volte all'anno. 8 trevigiani su 10 non intendono rinunciare al ristorante, il 74% a scarpe e vestiti seguono cura della persona e libri. A sorpresa, soltanto due su dieci parlano di elettronica e smartphone. L'inversione di tendenza più evidente sta però nelle modalità dell'acquisto e stupisce gli stessi operatori. Il negozio fisico mantiene le sue posizioni, anzi rimane un punto di riferimento dopo il Covid in cui abbiamo dovuto acquistare online per anni. questo ritorno al negozio dove c'è il consiglio, il suggerimento, la taglia, oggi per pochi giorni cominceranno anche i saldi, quindi anche l'acquisto consapevole. Tanti servizi e tanti anche negozi che sebbene hanno sofferto, finalmente, meritatamente, ce lo meritiamo, di poter riconquistare le posizioni rispetto all'online. Resistono quindi i negozi di vicinato, ma la mannaia dell'inflazione riguarda davvero tutti. L'aumento esponenziale delle materie prime, per esempio dei panifici alle geletterie, aiuta la presenza di turisti, scusate, non solo austriaci e tedeschi, ma anche americani, come nel caso di Casier. Ho aumentato tutto, materie prime, gas, luce, tutto, farine, anche per fare i panettoni, roba di pasticceria, tutto, tutto aumentato. Bel 30%, 35%, è un problema. 6 euro al chilo, questo più o meno il prezzo raggiunto al banco dal pane tradizionale, 9,10 per quello ai cereali o alla curcuma. Il re dei beni di prima necessità è tra i prodotti che sono cresciuti di più. Gianluca Gobbo, dal suo negozio con laboratorio di Casier, assiste all'escalation e al conseguente cambio delle abitudini. Le vendite sono un po' meno, perché la gente spende un po' meno, giustamente. Anche le briose ritoccate, perché ha aumentato il burro, tutto, le uova, tutto, tutto ha aumentato. E a proposito di dolce, amari sono gli aumenti anche in gelateria, il signor Armando li annota. Il zucchero è più che il piatto. Sappiamo che il gelato, il zucchero ce ne va parecchio e quindi lo zucchero sicuramente incide parecchio. In generale la materia prima è aumentata dal 20 al 3%, però noi sappiamo che una pallina di gelato mette un po' di allegria. E' un antidepressivo. Sì, proprio. Poco distante a facciata sul Sile c'è la trattoria di Andrea Sartorato. Qui il cicchetto è un rito. Qualcosina si è ritoccato, ma ci sono stati prodotti che sono aumentati, tipo l'olio da fritto, che è aumentato in maniera di 400%, non è che puoi aumentare il piatto. Qualcosina viene aumentato, perché dopo i prezzi rientrano, devi cercare di fare un ciclo di equilibrio. Potremmo dire le ombrette, i cicchetti classici, sono stati tenuti comunque uguali, senza aumentare il prezzo. Ad aiutare almeno qui a Caserta, Sile e Burci, il turismo, anzi il cicloturismo. Qui abbiamo, proprio per il nostro bacino, abbiamo un fortissimo numero di austriaci, o comunque anche tedeschi, ma tendenzialmente austriaci. Poi dipende dal periodo, a volte danesi, a volte olandesi. Adesso abbiamo un periodo in cui abbiamo parecchi americani, quindi molto probabilmente sono dovuti trovare parenti, o comunque hanno fatto... Cioè, sono parecchi, insomma. Where are you from? From Germany. It's nice here. It's very nice here. To Venice. Ma l'estate è già caldissima, torrida per il caro carrello della spesa. Fuori dai supermercati, anche all'interno dei supermercati, c'è amarezza, preoccupazione. Queste le voci dei trevigiani. Con quale stato d'animo, signora, si fa la spesa di questi temi? Basandosi su quel che sarà in tasca. Non che se ha altre alternative. Nessun'alternativa. Ma cos'è che pesa di più in questo periodo? Tutta la spesa. Tutta in generale. Si è aumentata tutta, se è tutta pesante. Basta accorgersi quanto è aumentato lo zucchero, le uova, il pane, tutto quanto. Diciamo che rispetto all'anno scorso, settimanalmente spendevamo 200 euro, quest'anno 300 alla settimana. Una famiglia di quanti? Tre persone, tre persone. Nove veneti su dieci, anche di più, sono preoccupati, preoccupatissimi da questo aumento dei prezzi, è così anche per lei? E certamente, da un po' di tempo, da più di un anno ormai, si vede che ogni volta che si va a fare la spesa, aumenta tutto. Ce ne siamo accorti anche noi, che le cose sono cambiate. Da un po' di tempo, non so dirle da quando, ma è chiaro che spendiamo di più ogni volta. Si è complicato comunque fare la spesa, fare tutte le cose, e sembra che la gente si è sempre più scontenta comunque, in generale. Cos'è che la stupisce? Il pane, la frutta, che cosa? La frutta soprattutto, la verdura e la frutta. Noi usiamo un po' meno il pesce, diciamo, ma la verdura e la frutta costano. La frutta e la verdura, assolutamente la frutta e la verdura. Un giorno uno, un giorno l'altro, si alterna, quindi non c'è differenza fra un articolo e quell'altro. I generi di prima necessità, dalla pasta, al pane, al caffè, a tutto. Ma in generale non sono andata a cercare proprio come si deve, ma in generale costa di più. Lei ha rinunciato a qualcosa in questi mesi? Alle vacanze. Lei ha rinunciato a qualcosa? Certo. Ma a questo punto che cosa dovrebbe fare il governo o chi perdere? Beh, la prima cosa che dovrebbe fare il governo sarebbe quella di vergognarsi. credo sarebbe la cosa più coerente. Ci sono milioni di persone che non ce la fanno, alcuni di questi pur lavorando. Ci sono famiglie messe veramente male, ma si pensa solo a proteggere gli evasori. E a certe categorie, ma questa fa parte della filosofia della destra, è una loro specifica cultura questa. E non c'entra niente il caro pedagio, almeno stavolta, con la vicenda giudiziaria emersa in tribunale a Treviso. Abbiamo sostenuto che l'autorità giudiziaria e la persona del pubblico ministero non fossero riusciti a raggiungere la prova su chi effettivamente conducesse l'autovettura nei giorni in considerazione. Non è stato possibile provare che la vettura incriminata fosse effettivamente guidata da loro. Per questo nuore e suocera di 41 e 79 anni, entrambe di Fregona, sono state assolte dall'accusa di insolvenza fraudolenta, seppure con formula dubitativa. Secondo la Procura, in base alle segnalazioni di autostrade per l'Italia, avevano accumulato quasi 7 mila euro di mancati pedaggi sulla 27, soprattutto nella tratta tra Vittorio Veneto e Treviso. La tecnica non è certo nuova, ma sarebbe stata applicata almeno un centinaio di volte. In pratica, l'auto cointestata alle due donne, una volta al casello, si accodava mezzi dotati di telepasso via card in transito, approfittando di fatto della sbaralzata, secondi preziosi ma soprattutto gratis, almeno nelle intenzioni. I sospetti fin dall'inizio si erano concentrati sulla più giovane, ovvero sulla nuora, ma per l'appunto nessuna telecamera l'ha mai immortalata come invece fatto per l'auto. Eppure le nuove tecnologie non mancherebbero. Evidentemente gli strumenti che consentono anche questo tipo di accertamento esistono. Credo che le telecamere oggi abbiano questa possibilità. Ogni caso va visto come caso a sé, quindi nella nostra vicenda gli elementi erano, a mio parere, soltanto indiziari e con elementi indiziari non si può condannare. Intanto il Tar del Veneto obbliga che nelle scuole vi siano degli insegnanti di sostegno che sappiano comunicare attraverso la lingua dei segni. Vince dopo dieci anni la sua battaglia legale una mamma di paese. Il Tar per la seconda volta ci ha dato ragione. Ora nelle scuole è obbligatorio includere la lingua dei segni. Per la seconda volta il Tar del Veneto dà ragione alla famiglia di una quindicenne di nome Lisa che soffre di disprassia, una forma di mutismo e invita Ministero dell'Istruzione e Scuola Media di fornire alla studentessa un interprete della lingua dei segni per tutte le lezioni in classe. I giudici del Tribunale amministrativo, visto che ad oggi era stato fatto poco o nulla nelle scuole che Lisa ha frequentato, prima a Paese e poi a Treviso, hanno di fatto con una seconda sentenza commissariato il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale nominando un funzionario per assicurarsi che la loro volontà venga eseguita. Obbligando la scuola a portare alla realtà, al concreto, la famosa sentenza di settembre 2022 dove si diceva che ci doveva essere sempre l'esperto Liss per garantire l'apprendimento, per garantire l'essere a scuola come tutti gli altri, anche per mia figlia e per chi come mia figlia usa la lingua dei segni. È una vittoria senza precedenti per Lisa e per tutti i bambini che soffrono della stessa patologia. Per la sua disabilità, prima sua figlia aveva un insegnante di sostegno che però non conosceva il linguaggio dei segni. Esattamente, da quando Lisa è iniziato la prima elementare ha sempre avuto docenti di sostegno che non erano formati in lingua dei segni, non la sapevano. Dopo dieci anni, lacrime e sofferenza, due sentenze del TAR e due scuole medie che hanno rispettato solo in parte le sentenze, ora i ragazzi colpiti come Lisa da questa forma di mutismo, classificati come disabili di SA con disturbi specifici dell'apprendimento, potranno avere al loro fianco degli insegnanti di sostegno che sono anche formati alla lingua dei segni. Tra l'altro questi docenti ci sarebbero già formati? Per Assurdo ci sono, sono all'Università Ca' Foscari, basterebbe la volontà di contattare l'Università Ca' Foscari e di creare sinergia Ministero dell'Istruzione e Università. Dall'anno prossimo Lisa andrà alle scuole superiori, ci si augura che anche lei possa seguire le lezioni felice come tutti gli altri. Grazie alla forza nostra possiamo aiutare tante tante persone. Andiamo adesso a Treviso per ritornare a occuparci del futuro dell'area Piani. Dopo la Guardia di Finanze, l'Agenzia delle Entrate, anche la Questura potrebbe lasciare la cittadella delle istituzioni che andrebbe così in mano ai privati. Parere favorevole da parte del Comune, molto critiche le minoranze. Quello dicono deve rimanere uno spazio pubblico. Da un punto di vista urbanistico ci siamo dati lo strumento di poter aprire al mondo privato. Quindi noi siamo disponibili a sederci attorno al tavolo insieme a Fondazione Cassamarca, come peraltro abbiamo già fatto nei mesi scorsi, perché quella che è un'area che io continuo a ritenere strategica, importante e dalle grandi prospettive, se aperta al mondo del privato può essere davvero molto attrattiva. Penso a una struttura ricettiva. Opzione che alle minoranze non piace. Vendere ai privati potrebbe causare un effetto buco nero per la città di Treviso. Non vorrei essere troppo negativa che lì sarà l'ennesimo buco nero e poi recuperare quell'area, a meno che, come diceva tempo fa, il Presidente di Fondazione non sia già appetibile per un fondo straniero, ma a quel punto diventerebbe l'ennesimo ingerenza straniera nella nostra città, che vada a privati, ma non so onestamente cosa ne potrebbero fare. Privatizzare l'area a piani potrebbe significare anche mettere in crisi le attività commerciali della zona, nate proprio per offrire servizi alle persone che ogni giorno lavorano o transitano per gli uffici pubblici. Evitare che accada, al contrario, quello che è accaduto quando la cittadella delle istituzioni è nata, cioè lo svuotamento di servizi del centro e il conseguente indebolimento del tessuto economico, in particolare quello commerciale, dello stesso centro. Secondo le minoranze, quella del campus universitario e la nuova sede della provincia, le sole destinazioni possibili. Io lo dico da anni, valutiamo seriamente l'opportunità di trasferire lì la sede della provincia, che all'ex manicomio è assolutamente inadeguata, nel senso che è eccessiva, e che lì potrebbe trovare una sistemazione molto più adeguata. Sarà l'ennesimo buco nero, perché tra l'altro è costosissimo, per cui andate via delle istituzioni che possono pagare, non credo che altri andrebbero. Mi risulta anche che ci siano molti appartamenti ancora vuoti e quindi o si dà una visione pubblica o altrimenti non vedo soluzione. Per me l'università o la provincia potrebbero essere le due posizioni che peraltro il Partito Democratico ha sempre avuto. Intanto in centro, in centro storico, chiude il Cinema Corso. Il Cinema Corso a Treviso, se non entreranno nuovi investitori, chiuderà per sempre. Preso in gestione lo scorso dicembre da Don Elio Girotto del Cinema Busana di Mogliano, l'unico multisala in centro storico a Treviso ha smesso a giugno di proiettare film e non riaprirà a breve. È una situazione di grande difficoltà per cui chi ha una sala deve confrontarsi anche con spese, con investimenti che non sempre sono sostenibili. All'origine della scelta di non rinnovare il contratto d'affitto alla proprietà, ma dio i nuovi lavori di ristrutturazione che dovrebbero essere eseguiti in tempi brevi. Ci sono degli investimenti da fare sul materiale di proiezione e anche su altri piccoli aspetti tecnici e noi non siamo assolutamente in grado di affrontarli. La proprietà, come è scritto anche nel comunicato del tutto plausibile, ha deciso di non investire. Dopo aver vagliato tutte le possibili soluzioni, la decisione irrevocabile di non tenere aperto, Treviso si candida a Capitale della Cultura 2026, ma ormai da un mese a questa parte non ha più neanche un cinema aperto dentro le mura. Sicuramente in città pesa anche probabilmente il fatto che ci sia sicuramente un multisala vicino, quello di Silea, e ci sia anche una scassità di parcheggi. Per il sindaco Mario Conte è un giorno triste. Capisco però le difficoltà di proprietà e gestori nell'affrontare investimenti in momenti così difficili. Tutti i cinema sono fortemente in difficoltà, anche quelli nelle grandi città. Noi ovviamente ci mettiamo a disposizione per sostenere queste realtà. E Nicola Marcato nel suo servizio faceva riferimento a questa candidatura Treviso Capitale della Cultura 2026. Ebbene oggi è stata presentata la domanda ufficiale. Abbiamo ufficialmente protocollato la nostra manifestazione di interesse alla candidatura per Treviso Capitale Italiano della Cultura 2026. Quindi attendiamo qualche giorno l'esito della manifestazione di interesse. Dopo cominciamo a lavorare a testa bassa sullo studio e report che dobbiamo preparare per illustrare quelle che sono le caratteristiche, le progettualità e la visione culturale di questa città. L'iter di candidatura prevede l'attivazione dei tavoli di lavoro con la regia del sindaco e la parte operativa affidata al dirigente del settore musei, biblioteche, cultura e turismo del comune. Settore, quello culturale, che la città si sta impegnando ad ampliare e migliorare. Dal Museo Bailo alla riqualificazione di Casa Robegan, al recente restauro della chiesa di Santa Margherita e la realizzazione dell'abside di Santa Caterina. I luoghi di cultura cominciano a diventare davvero importanti se messi in rete inoltre con il patrimonio della Fondazione Benetton, della Curia, della Fondazione Cassamarca che ovviamente dovranno essere tra i protagonisti insieme a noi di questa programmazione. Ci sarà un coinvolgimento di tutte le associazioni culturali così come della rete dei festival perché, ripeto, deve essere una candidatura inclusiva aperta a tutti, dove ognuno di noi deve mettere il proprio tassello. Penso, per esempio, alle mura cittadine che saranno anche oggetto di riqualificazione attraverso il PNRR che certamente saranno uno degli elementi forti del nostro dossier. Il percorso di candidatura prevede che dopo l'esito della manifestazione di interesse la città presenti un dossier che sarà valutato entro settembre. Attesa per il mese di marzo la nomina ufficiale della Città Italiana della Cultura 2026. Tempi serrati dunque per lo sviluppo di un progetto che mira a coinvolgere le università e le scuole ma anche tutti i partner del territorio. Ovviamente sarà una candidatura di territorio, una candidatura inclusiva che vedrà coinvolti anche i comuni limitrofi e i territori e i paesaggi naturalistici che caratterizzano ovviamente la marca trevigiana. Da Treviso a Mogliano Veneto per una storia di tutt'altro tenore due fratelli, due fratelli cinquantenni costretti a vivere in tenda. Mi spero che il signor mi toghi la vita perché questa non è una vita da fare. Ci accolgono nel loro rifugio di fortuna Riccardo e Edi Perazza, moglianesi di nascita che da marzo stanno vivendo in tenda dietro a un supermercato a due passi dal centro. Strattati dall'Ater per inadempienza hanno accumulato un debito da quasi 40.000 euro che i due non sono in grado di ripagare. Una vicenda familiare complessa aggravata anche dalle loro condizioni di salute. Un caso che l'amministrazione di Mogliano conosce e per il quale gli assistenti sociali sono già attivi. Ai due fratelli era stato offerto un posto in dormitorio che è stato rifiutato. L'amministrazione comunale gli ha offerto più volte la possibilità di andare in un dormitorio sia a Treviso che a Mestre. Opportunità che loro hanno rifiutato in quanto probabilmente si sentono un po' più liberi così. Certo che è una situazione che non può continuare in questo modo perché non è sostenibile. Grazie comunque alle associazioni di volontariato alla rete che si è creata nel territorio moglianese questa situazione di marginalità si sta cercando di includerli ancora un pochino e quindi ci sono delle associazioni tipo la Caritas, la Leva Civile e la Comunità di Sant'Igidio che li aiutano, gli forniscono pasti e li assistono. So che hanno anche modo di lavarsi presso delle persone amiche. Quello che l'amministrazione comunale sta facendo è avviare un percorso per ovviare a questa situazione. Un aiuto per migliorare le loro condizioni di vita che arriva anche dai cittadini e dalle associazioni. È ad un signore del posto infatti Chiedi e Riccardo devono la costruzione di una piccola tettoia per ripararsi dalle piogge degli scorsi mesi e potersi sistemare in modo più dignitoso. Anche il Comune ha la ricerca di una sistemazione per ovviare alla situazione di difficoltà in cui versano ma trovare un alloggio non è semplice. Il Comune in questo momento anche l'idea di un alloggio non è comunque una cosa così immediata sappiamo bene che ci sono delle graduatorie ci sono dei determinati requisiti che anche il Comune deve rispettare rispetto all'offrire un'abitazione quindi quella del dormitorio in questo momento è una soluzione percorribile soprattutto sarebbe una soluzione tampone di emergenza finché il Comune sarà in grado visto che ha già avviato un percorso tramite gli assistenti sociali per creare a loro un'opportunità diversa. Ancora cronaca da Treviso e Belluno ma subito dopo la pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per la pagina trevigiana e bellunese dei nostri notiziari andiamo per un attimo a Venezia perché c'è stata una pagina importante della vita politica regionale con la Corte dei Conti che ha promosso il rendiconto 2022 della regione soddisfatto Luca Zaia molto meno le opposizioni. Parifica il rendiconto generale della regione del Veneto per l'esercizio 2022 La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto finanziario 2022 della regione Veneto il documento che certifica tutte le entrate e le spese sostenute nell'ultimo anno di amministrazione. Soddisfatto il presidente Zaia presente nella sede di Rialto assieme a gran parte della Giunta. Si può sempre migliorare però siamo felici anche perché è stata una bella parifica è stato soprattutto sottolineato il grande lavoro che si fa. Poi è ovvio che è tutto migliorabile e si può fare sempre di più però oggettivamente abbiamo preso in mano una regione che se avessi dovuto parificare 10, 15 anni fa sarebbe stata una parifica molto difficile. Zaia ha ricordato alcuni numeri della regione un risultato economico di 100 milioni di euro una situazione patrimoniale di 10.641 milioni e un patrimonio netto che vale 2.628 milioni di euro sottolineando anche come il Veneto rimanga l'unica regione a statuto ordinario dove non c'è pressione fiscale aggiuntiva. Diverso il commento del Partito Democratico Veneto presente con la capogruppo a Vanessa Camani e il consigliere Andrea Zanoni che ricordano alcune indicazioni critiche avanzate dalla Corte. Il tema delle Olimpiadi che continua a essere una grande incognita per quanto riguarda la nostra regione sia nel senso dei risultati che degli impegni economici e poi in generale la grande questione del perimetro sanitario. riteniamo totalmente insufficiente la lettura del Presidente Zaia che continua a raccontare di una sanità veneta dove va tutto a gonfie vele e dove non ci sono liste d'attesa. Ma a Venezia il discorso si allarga anche a tematiche nazionali come il recente intervento del Governo circa il potere di controllo della Corte dei Conti sul PNRR una polemica ricordata nella sua requisitoria dal procuratore regionale della Corte dei Conti Ugo Montella. Il ruolo della Corte è una garanzia per le istituzioni perché mette a riparo da eventuali censure in sede giurisdizionale e quindi da responsabilità. Allora non ho capito proprio invece sul controllo concomitante tutta questa polemica che si è innestata laddove i nostri stessi padri fondatori erano ben consapevoli del ruolo della Corte come sostegno dell'amministrazione. La fabbrica trevigiana del futuro inclusiva e con la persona al centro ne hanno parlato i giovani imprenditori di Confindustria Veneto Est. La fabbrica del domani che ritorni attrattiva per i giovani è il tema su cui i giovani imprenditori di Confindustria Veneto Est hanno deciso di incentrare la loro prima assemblea generale pubblica svolta nei giorni scorsi proprio in un'azienda la Dalben di Sanstino di Livenza. Il tema della fabbrica è un tema un po' ignoto soprattutto alle giovani generazioni e quindi c'è un primo problema che è di narrazione da parte delle imprese in particolare dell'industria e delle fabbriche di raccontare come sono perché altrimenti lo stereotipo è che la fabbrica uno va in fabbrica a fare un lavoro sporco ripetitivo, alienante mentre anche girando questa fabbrica si può vedere che non è proprio così. Chi si affaccia oggi sul mercato del lavoro ha esigenze aspettative differenti rispetto al passato? Non è vero che non danno importanza al lavoro danno importanza ma in misure inferiori rispetto alle generazioni precedenti perché assieme al lavoro danno importanza ad altri aspetti come la possibilità di conciliare la vita professionale con quella personale il tempo libero, la cultura altre dimensioni che sono diventate importanti praticamente a livello nazionale ai lavoratori chiedendo ma voi pensate di cambiare lavoro prossimamente quasi uno su due risponde di sì e questo uno su due più del 60% dice che lo fa esattamente per motivi di carattere espressivo cioè la qualità della vita Sostenibilità ambientale, digitalizzazione ma soprattutto attenzione alla persona nelle aziende che cambiano I giovani sono al centro noi dobbiamo essere ad accompagnare queste nuove sfide che loro dovranno intraprendere con la convinzione che però non è solo una fabbrica che cambia ma deve essere un territorio che cambia L'azienda è un luogo aperto l'azienda è un luogo di persone e oggi siamo qui per tornare a raccontare quella che insomma per noi è la fabbrica che è un luogo di comunità è un luogo dove si creano relazioni non solo cose dove si cresce e si cresce insieme attraverso una visione comune bisogna guardare alla nuova generazione perché la nuova generazione e parlo anche dei giovanissimi rispetto a me hanno veramente tanto, tanto e vogliono dare tanto E a proposito di inclusione parliamo di turismo sociale con questa iniziativa dell'ULS2 La musica e il divertimento al Restera in Fest c'è spazio anche per un evento del progetto di turismo sociale dell'ULS2 voluto dalla Regione Veneto per promuovere la cultura dell'inclusione dei ragazzi con disabilità Per rendere partecipata e garantire diritti di cittadinanza ai nostri ragazzi ovvero poter vivere delle esperienze nel territorio soprattutto in ambito sportivo eventi culturali e come quello di oggi L'altro aspetto del progetto è quello dell'inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito del settore turistico Sono qui presenti i ragazzi che stanno iniziando quest'estate a fare a riprendere l'esperienza del turismo attraverso i tiruccini nel territorio di tutto il Veneto Ecco allora Maria che dopo il tiruccino a Fiera andrà a Iesolo al villaggio Marzotto una delle strutture che aderisce al progetto di turismo sociale inclusivo Poi a Corsa vado a la mia famosa che vado a Mazzotto a Iesolo tra i miei amici E Daniela che lavora in una pizzeria a Sant'Antonino Mi piace tantissimo il mio ramo alberghiero per cui sono sala e banco Progetti occupazionali che diventano fondamentali per l'inclusione e l'inserimento nella società di questi giovani I ragazzi diventano una risorsa per le aziende con cui noi collaboriamo e facciamo sentire parte di tutta la normalità che viviamo della nostra quotidianità e appunto tante volte ci dicono che sono dei grandissimi lavoratori L'inserimento lavorativo ma anche sociale nei momenti di svago e convivialità E poi iniziative come questa dove anche nel tempo libero nel turismo siamo nella società ci siamo anche noi Il bello di questi eventi di questi momenti è appunto essere tutti insieme quindi l'inclusione e che non sia un evento solo per la disabilità ma tutti insieme insieme alla disabilità e a tutta la cittadinanza Andiamo adesso a Belluno La cronaca in primo piano è stato purtroppo ritrovato senza vita questa notte il 67enne di Feltre di cui non si avevano più notizie da ieri mattina dopo che si era allontanato da casa con la propria auto ieri sera attorno alle 22 è stato attivato il soccorso alpino di Feltre che ha operato con i vigili del fuoco l'auto della 67enne è stata trovata sul ciglio della statale 50 nelle vicinanze della diga di Pontetta in comune di Lamon in una zona disseminata di salti verticali che danno sul torrente Schener attorno alla mezzanotte il corpo dell'uomo è stato individuato sotto un dirupo data la difficoltà del recupero immediato l'assalma è stata vigilata per tutta la notte dai vigili del fuoco e è recuperata con l'elicottero di Treviso Emergenza quando le condizioni di visibilità hanno consentito l'intervento un'intera famiglia di Borgo Valbelluno è stata denunciata in concorso per produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti i carabinieri del reparto operativo di Belluno con i colleghi della stazione di Mell su delega dell'autorità giudiziaria hanno perquisito la casa dove risiedono i tre denunciati e al suo interno vi hanno rinvenuto e sequestrato 4 kg di marihuana essiccata 65 grammi di ascis 21 piante di marihuana e 7 mila euro circa di banconote probabili e provento dell'attività di spaccio così dunque a Borgo Valbelluno e non ha causato conseguenze a persone o cose il distacco di un masso piombato sulla regionale 203 a Gordine in località Bivio per Rovei in comune di Colle Santa Lucia le immagini sono impressionanti l'evento è accaduto poco prima delle 15 di oggi pomeriggio e la roccia come riferisce Veneto Strade è stata contenuta dalla rete Paramassi subito al lavoro il personale della società che ha operato per la rimozione del masso costringendo la circolazione viaria a senso unico alternato regolato da Movieri così dunque sulla statale a Gordina a Colle Santa Lucia a Belluno il comiato del questore Giuseppe Maggese destinato a ricoprire medesimo incarico a Reggio Emilia un anno e otto mesi è durata la sua permanenza in città un periodo apprezzabile per un'esperienza impegnativa e formativa ha detto Maggese che con la stampa ha tracciato un bilancio della sua attività come ci racconta Tiziana Bolognani mi auguro di aver dato un contributo a quello che è il mantenimento di un livello elevato per quanto concerne la sicurezza della provincia naturalmente il giudizio finale non spetta a me e l'opinione generale è positiva nei confronti di Maggese che per un anno e otto mesi ha guidato la questura di Belluno e tutti i reparti presenti in provincia affrontando situazioni complicate ma non emergenziali risolte con l'individuazione dei responsabili e il ripristino della legalità è il caso eclatante della cruente rapina all'alimentario di Ardivella a Pontanelle Alpi del novembre scorso l'episodio più increscioso che resta nei ricordi del questore Maggese anche queste manifestazioni di disagio sostanzialmente giovanile che possono anche inopinatamente raggiungere livelli così pericolosi perché voi ricorderete come si sia andati molto vicino all'irreparabile ecco da questo punto di vista la guardia va tenuta alta sotto tutti i profili il questore Maggese lascia a Belluno per la nuova sede di Reggio Emilia dove ricoprerà medesimo incarico ringraziamenti estesi al personale della polizia di stato della provincia che ha affermato non ha mai mancato un turno di servizio svolgendo il proprio compito istituzionale ai massimi livelli di preparazione e competenza e poi al prefetto che ha coordinato il sistema di sicurezza pubblica alle istituzioni e alle associazioni di categoria un unico cruccio per Maggese al pari dei suoi predecessori quello di non essere riuscito a mettere un punto fermo riguardo la nuova sede della questura voglio lanciare un appello perché mi sembra davvero importante che questa situazione venga finalmente risolta perché non è più procrastinabile la questura ha aspettato un pochino troppo da questo punto di vista e mi auguro insomma che i miei successori possono vedere colmata questa lacuna seguirà le olimpiadi in ultima battuta da lontano eh sì sì ho dovuto occuparmi di quella che è stata la prima progettazione sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica ma sono certo che il mio successore con cui appunto sono anche i rapporti di amicizia saprà proseguire in maniera assolutamente adeguata sulla strada che è stata già segnata la cronaca sindacale con Safilo e Telios che dettano i tempi per la chiusura della trattativa con i sindacati tempo un mese hanno dichiarato i vertici dei due colossi dell'occhialeria e tutto potrebbe risolversi il punto fermo sia la salvaguardia dell'occupazione nel mantenimento di un importante presidio del territorio scrivono i segretari di Femca Cisla Veneto e di Belluno Treviso e sulla stessa linea è il commento della segretaria della CGL di Belluno che però spiega come sia impensabile che dopo mesi in attesa di un segnale siano ora Safilo e Telios a determinare tempi e futuro lavorativo ed economico di quasi 460 dipendenti pronti a firmare l'accordo se Telios rileverà tutti i lavoratori facendosi carico di oneri e costi dell'operazione scrive Denisa Casanova che nella sessantesimo del Vaionta auspica che entrambi i colossi con consapevolezza sappiano lasciare un segno di ciò di cui hanno beneficiato sinergia in tempi rapidi tre mesi di eventi da luglio a settembre probabilmente anche un concerto Palazzo Rosso e Fondazione Teatri delle Dolomiti hanno pubblicato il cartellone di arte in movimento che ingloba tutte le iniziative culturali di teatro danza musica cinema e storia organizzate da chi opera a Belluno un dépliant pregevole con le offerte culturali di puro svago organizzate da chi opera in città c'è il TIB con la terza edizione del cielo sopra Belluno il teatro sotto le stelle il festival intergenerazionale multiculturale io gioco c'è la musica classica lirica e rock and roll proposta dal circolo culturale bellunese il concerto evento di Raffaele gualazzi a malga faverghiera di scoppio spettacoli e consorzio dolomiti prealpi e poi cinema ancora teatro con le bretelle lasche le proposte della proloco pieve castionese le visite guidate con marta azzalini e l'associazione campedelle la lettura delle officine della cultura palazzo rosso e fondazione teatri delle dolomiti a fare da collettore di un'iniziativa poliedrica e policentrica poliedrica perché l'offerta culturale è molto variegata e di diverso tipo per tutte le età e per tutte le generazioni e policentrica perché non si focalizzerà soltanto all'interno del centro storico ma girerà letteralmente è itinerante arte in movimento il titolo la rassegna per molte delle frazioni bellissime di cui si connota il nostro territorio urbano un cartellone unico pensato sia per i residenti che per i turisti che abbraccia tutte le sfumature dell'anima di Belluno questa è la prima volta dopo tantissimi anni che si riesce a fare un calendario di questo tipo ma soprattutto di contaminazione tra professionalità e tutto quello che è il teatro la musica amatoriale il debutto questo pomeriggio con le chicche di musica pop italiana dal 40 al 70 giovedì in centro storico la prima di Belluno di sera svago e shopping fino alle 23 questa verrà affinata con ulteriori iniziative da parte dell'amministrazione comunale nella parte finale del mese di agosto e dei primi di settembre proprio per dare un ulteriore valore aggiunto a una rassegna importante è tutto non ho altro da aggiungere non ci sono aggiornamenti né da Treviso né da Belluno vi lascio le previsioni del tempo buona serata entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura ben trovati al meteo l'anticiclone africano avanza gradualmente dal sud verso il centro nord ancora lambito da correnti instabili vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 5 luglio sul Veneto la pressione non è ancora forte pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con bel tempo prevalente il pomeriggio invece vedrà lo scoppio di temporali sui settori alpini localmente su quelli prealpini e anche sulle pianure limitrofe temperature stazionarie minime tra 14 e 22 gradi massime sui 26 31 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia anche in questo caso sarà in parte soleggiato dal pomeriggio qualche temporale sulla zona montana fin verso la pianura circostante temperature minime sui 19 e 22 gradi massime intorno ai 27 30 gradi all'incirca infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige sarà più soleggiato specie al mattino tuttavia nelle ore più calde di nuovo lo sviluppo di rovesci temperature minime intorno ai 17 19 gradi all'incirca massime sui 29 31 gradi dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia busti tutori e protesi di arto personalizzati ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato soluzioni per star bene